in italia c'è un ambiente della casa dove regna sempre l'armonia su come si cucina un buon piatto di pasta al pomodoro siamo tutti d'accordo pasta pomodoro si fanno si mette a bollire dell'acqua un pacco di rigatoni si può si prende della cipolla la cipolla giusta la cipolla rossa di tropea cinque spicchi d'aglio niente aglio tanto sale nel soffritto poco nella pasta niente sale nel soffritto tanto olio al posto dell'olio nel soffritto mettete un po d'acqua olio di semi un pizzico di ketchup il tempo di preparazione di circa due ore ecco qua la vostra pasta al pomodoro e vostro marito dopo averla assaggiata non potrà che dirvi amore stasera kebab grazie grazie